Questa è Ostia in quel di Mantova e qui risiede l'uomo più invidiato d'Italia, il signor Carlo Radaelli, florido industriale e, ciò nonostante, vincitore di 173 milioni errotti al totocalcio. Data l'entità della cifra, si è lanciato in folli spese, non ha esitato a ordinare un litro. Chiusa la parentesi godereccia, si è rimesso a lavoro compilando una decina di schedine e non solo del totocalcio ma anche dell'enalotto e del totip, uomo di gusti semplici in fatto di vincite non ha preferenze. Mentre i suoi compaesani affollavano le ricevitorie il Radaelli ha fatto una partita a briscola, posta 100 lire, ha perso, si è alzato mormorando amareggiato, non ho mai visto un periodo di iella così nera.